lunedì 9 settembre 2024 le previsioni sono di maestrale in rinforzo così me ne vado nel litorale e alle 8 del mattino sono in acqua ma appena entrato non c'è neanche bisogno di scendere decido di andare controcorrente che già è abbastanza forte pescando un po all'aspetto un po l'agguata come viene e prendo il mio secondo perce della giornata che è una bella mormora autunnale un po l'agguata che si tratta di un po l'agguata che si tratta di un po l'agguata continuo controcorrente si fa davvero una bella fatica e scendendo qua e la trovo il mio terzo pesce della giornata una bella corvina non 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 A questo punto succede l'imprevedibile. La base del mio monoroller dell'elastico principale cede e il mio fucile diventa praticamente inutilizzabile. L'unica cosa buona è che potrò rientrare a favore di corrente. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori.